Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui ancora una volta insieme per parlare di fantacalcio. Buon ferragosto a tutti innanzitutto e dopo tanto tempo torna la rubrica gli appunti del prof. Per chi non ci fosse stato già qualche mese fa, che cos'è la rubrica gli appunti del prof? È molto semplice, in pratica io guardo le partite della Serie A e qualora voi non le aveste viste o le aveste viste ma vorreste qualche spunto in più in ottica fantacalcio, io qui faccio proprio questo. Quindi oggi vi andrò a parlare delle quattro partite che si sono svolte sabato, quindi andremo a parlare dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta e del Monza con il Torino e andiamo a vedere che cosa ci hanno detto in ottica fantacalcio queste quattro partite. Prima di continuare però se non l'avete ancora fatto mi raccomando like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis. Allora innanzitutto partiamo dalla partita qui di Genova tra Samp e Atalanta. Nei prossimi giorni io vi porterò dei video dove vi parlerò dei giocatori rivalutati dopo il primo turno, dei giocatori svalutati e dei giocatori trappola di questo primo turno. Però adesso vi voglio parlare soprattutto di quello che ho visto da un punto di vista calcistico ma che poi per forza di cose si andrà a tramutare anche in concetti importanti per il fantacalcio. Innanzitutto occhio a sopravvalutare quella che è stata la partita dell'Atalanta. Nel senso che l'Atalanta ha fatto una partita da grande squadra sotto certi aspetti, da big. Ha saputo soffrire e colpire al momento giusto. Ma guai a pensare che l'Atalanta abbia dominato la partita di Genova. Anzi in più di un'occasione ha rischiato molto. Il gol ad esempio annullato a Caputo ha fatto molto discutere, chiamata molto dubbia possiamo dire. Ma al di là di quell'episodio in generale la difesa della Dea dietro non ha assolutamente convinto al 100%. Va detto a discolpa della squadra di Gasperini che erano tante le assenze. Soprattutto dietro ha giocato Ocoli che onestamente a me non ha colpito in maniera così positiva. Mi è piaciuto molto di più Scalvini quando è entrato nel secondo tempo. Poi sicuramente alcuni commentatori hanno cercato, non so bene perché, di esaltare la prestazione di Ocoli. Ma ragazzi andatevi a vedere un po' soprattutto il primo tempo, soprattutto i 20-25 minuti iniziali. Gli errori che ha fatto questo giocatore, da lì a dire che sarà il titolarissimo quest'anno all'Atalanta, mi sembra un po' eccessivo. Ad esempio c'è stata un'occasione nel primo tempo, ancora prima del gol annullato a Caputo, dove poi è stato bravissimo Maile in un recupero sulle RIS. Ecco, lì sbaglia l'anticipo Ocoli. Quindi andatevi a vedere questi episodi perché poi è facile leggere il tabellino, è facile dire Atalanta dominante. Ma attenzione perché non è stato così. Scalvini invece è entrato nel secondo tempo molto bene. Lukman quello che doveva fare lo ha fatto. Personalmente ritengo ancora che sia un giocatore su cui non puntare in maniera eccessiva al fantacalcio. Ma per quanto riguarda i nomi poi ve ne andrò a parlare nei prossimi giorni nello specifico. In casa Samp mi è sembrata evidente la mancanza di alternative a livello offensivo che non passassero dai piedi di Sabiri, molto male di Uricic, ma soprattutto secondo me qui il vero bibio della stagione della Samp sarà la scelta del modulo. Nel senso che al momento personalmente non credo che la Samp abbia i giocatori giusti per fare questo 4-1-4-1. Soprattutto mancano giocatori che vanno ad allargare il gioco. E se è vero che Giampaolo è un allenatore che solitamente preferisce attaccare per vie centrali, è anche vero che se giochi col 4-1-4-1 non puoi solamente sperare in qualche giocata di Sabiri. E' ovvio che l'arrivo eventualmente di un Ursolini o più in generale di un giocatore che possa in qualche modo farti l'uno contro uno anche sulla fascia sarebbe fondamentale per questa squadra. Di Uricic abbiamo detto poc'anzi, sicuramente non in condizione, ci vuole pazienza al momento, non è un giocatore da schierare se lo avete in rosa. Parliamo però nuovamente dell'Atalanta. Derun, confermato dietro, ha fatto il suo, senza infamia, senza lode. Coppemainers bene, ma mi aspetto molto di più da questo giocatore. Zapata. Zapata l'ho visto abbastanza bene. Secondo me, da come sta evolvendo la rosa della Dea, probabilmente quest'anno vedremo molte più volte la soluzione offensiva con il trequartista e le due punte. Sia perché credo che Zapata probabilmente abbia bisogno di una spalla vicina, che sia Muriel, che sia Lukman, che sia lo stesso Bogat, sia perché avere i due trequartisti, Pasalic e Malinoski insieme, vedremo se resterà con una punta sola lì davanti, a volte l'Atalanta potrebbe rischiare di spezzarsi troppo in due settori. Cioè, che ci sia troppa distanza tra il centrocampo, la difesa e i tre davanti. Mentre invece con il trequartista, soprattutto Pasalic, che rispetto a Malinoski ha più una funzione di raccordo tra l'attacco e il centrocampo, questa distanza tra i reparti, almeno contro la Samp, non si è vista. Sono curioso di vedere la prossima partita, che arriverà al Milan a Bergamo, come deciderà di giocare Gasperini, se con le due punte o se con i due trequartisti e la punta. Sicuramente ci sarà un'indicazione importante. Cambiamo partita e andiamo a parlare della partita tra Monza e Torino. Per quanto riguarda il Monza, mi aspettavo la partita che hanno fatto, nel senso che comunque c'erano tanti giocatori nuovi, se pensate addirittura alla coppia d'attacco, Caprari-Petagna, totalmente inedita. Petagna aveva fatto solamente un allenamento nelle gambe, quindi devo dire che non mi ha deluso il Monza. Anzi, ci sono un paio di giocatori che secondo me hanno fatto bene e che poi nelle prossime fasce, almeno per ora, troverete leggermente alzati. Parlo soprattutto di Birindelli, che era già una scommessa di cui avevamo parlato e che mi ha convinto da quella parte, ma soprattutto anche di Ranocchia. Parlo ovviamente di Ranocchia, il centrocampista. Questo giocatore ha sicuramente del potenziale, ha sicuramente personalità. Spesso è stato lui a provare a concludere verso la porta granata. Quello che secondo me manca ancora a questo giocatore è la capacità di fare degli inserimenti incisivi, nel senso che tante volte si è andato a buttare dentro, un po' come potrà fare il Pessina, per fare un'analogia, però magari con scarsi risultati. Va anche detto che comunque contro c'era la difesa del Torino, la difesa di Juric, che è una difesa difficile comunque da scardinare. Infatti il Monza ci è riuscito solamente ormai a tempo scaduto, però questo giocatore è da monitorare. Al momento non gode sicuramente di titolarità assicurata. Pensiamo che comunque mancava Pessina, mancava lo stesso Sensi. Quindi non è un giocatore su cui puntare, se volete, il titolare. Ma comunque l'Under 21 Ranocchia è sicuramente un nome che strada facendo potrebbe diventare molto interessante. Nel Toro, convincente la prova di Radonich, a conferma di quello che già avevamo detto a luglio e a conferma di quello che avevamo detto dopo la partita di Coppa Italia, occhio però a strapagarlo ragazzi. Io nelle fasce ormai l'ho alzato, come avete visto, non lo considero più una scommessa perché è sotto gli occhi di tutti. L'ho alzato, l'ho considerato ormai un underdog. Occhio però a strapagarlo perché comunque in chiave bonus, secondo me, a questo giocatore manca ancora qualcosa. Cioè potenzialmente devastante, tecnicamente molto forte, velocissimo, lo avevamo detto. Il problema è che con i mezzi che ha dovrebbe segnare almeno un gol a partita. Invece, prima di segnare, gli servono veramente a molte occasioni. Quindi, giocatore sicuramente, ovviamente da monitorare, da scriversi nei nostri quaderni, nei nostri PC, ma occhio a pensare che possa fare così tanti gol perché al momento, almeno, sottoporta non è ancora così lucido. Molto bene Mirancuk, ha già dimostrato di inserirsi nella squadra di Juric, nonostante avesse, penso, solamente un allenamento, forse neanche uno, non ricordo. Comunque, molto bene Mirancuk. Tra l'altro, in questo momento abbiamo capito che sulla sinistra c'era Adonic e questo lo sapevamo. Mirancuk, come pensavamo, è mancino ma gioca a destra in modo da sfruttare questa sua capacità nel venire in mezzo al campo e poi occhio a Olasic. Alcuni di voi, ho visto, anche giustamente, sono molto scettici su questo giocatore. Io sono abbastanza diviso a metà, nel senso che tutto quello che di buono vi ho detto nel video sui prezzi resta. Io credo che la sua esperienza in Premier non vada giudicata così severamente perché sappiamo che la Premier è un campionato molto superiore al nostro. Pensiamo a quello che ha fatto Lukaku, ad esempio, l'anno scorso in Premier. Allo stesso tempo, Blasic per me è un giocatore che però al momento non è ancora in condizione. Non so se avete visto la partita, ma nel secondo tempo, quando è entrato, mi è sembrato un po' indietro, sia rispetto a Adonic sia rispetto a Mirancuk. Ma attenzione ragazzi, sto parlando esclusivamente di un discorso fisico. Quindi sono convinto che nelle prime due, tre, probabilmente anche quattro uscite i titolari, almeno inizialmente, saranno Radonic e Mirancuk. Ma attenzione a sottovalutare troppo Blasic perché io credo che quando questo giocatore sarà in condizione possa ritagliarsi uno spazio importante. E in chiave bonus, in chiave lucidità sottoporta, io penso che Blasic abbia qualcosa di importante. Però aspettiamo e ovviamente vedremo quando entra in condizione questo giocatore. Poi, per quanto riguarda i singoli, più in generale, Sanabri e tutti gli altri, ne parlerò poi nei prossimi video dei prossimi giorni. Parliamo invece di un'altra partita ora, quella tra Lecce e Inter. Per quanto riguarda il Lecce, ci sono stati due giocatori che mi hanno colpito positivamente. Il primo è sicuramente Cisai. Perché? Ma perché comunque fin qui è sempre stata considerata una scommessa e al di là del gol, che sicuramente ne andrà ad alzare il prezzo e poi ne parleremo, è un giocatore che mi è piaciuto anche al di là del bonus. Cioè, ha fatto quasi reparto da solo, nel senso che comunque il Lecce giocava con una punta centrale, Cisai, e con due esterni, Strefezza e Di Francesco. Ecco, questo è importante perché ci fa capire come Cisai possa essere effettivamente un punto fisso lì davanti della squadra del Lecce. Quindi occhio a considerarlo solamente come un sesto slot a un credito perché io credo che questo giocatore possa fare qualcosa in più. Possa fare qualcosa in più rispetto a un sesto slot. Quindi ovviamente non va paragonato ai Caputo, ai Beto, perché hanno già fatto qualcosa in più in passato in Serie A. Ma comunque questo giocatore è da tenere lì. E poi ne parleremo nel dettaglio nei prossimi giorni. L'altro giocatore che mi è piaciuto molto in Casalecce è Juhlmand. Juhlmand è un giocatore che l'Inter aveva anche cercato in passato, ipotizzandolo come vicebrozovic, poi ovviamente sono state fatte altre scelte, ma mi dà l'idea di essere un giocatore pronto per la Serie A. Un giocatore che magari lo prendiamo come ottavo slot, da cui non aspettarsi troppi bonus, ma che all'occorrenza il suo lo fa. Il classico regolarista titolare di una squadra medio-piccola. Ovviamente si sta parlando comunque di ultimi slot, però rispetto ad altri mi ha dato una buona idea, o mi ha fatto una buona impressione. Si sta parlando di calcio ad agosto, si sta parlando della prima partita, però così ho avuto questa sensazione e ve l'ho portata. Altro giocatore che non mi è dispiaciuto, sempre in Casalecce, è Gendry. Era un nome di cui avevamo già parlato in una live, citando anche il Gendry del trono di spade. Beh, devo dire che scherzi a parte, questo giocatore non ha fatto così male. Quindi anche qui magari segniamocelo e poi monitoriamolo nelle prossime due-tre partite. In casa Inter, secondo me, c'è poco da dire. Resto convinto che al momento l'Inter non sia ancora intervenuta sul mercato dove davvero doveva intervenire. Quindi io vedo ancora dei problemi in questa squadra. Al momento la cosa che mi ha più colpito, al di là di Defray, che sapete come la penso, lo vedo abbastanza così in fase involutiva, ormai da un annetto, la cosa che mi ha colpito sono gli esterni. E qui è un discorso un po' più complesso. Perché probabilmente, come avevamo già accennato quando abbiamo fatto la live sui top in difesa, non so quante volte vedremo dall'inizio, Gossens e Dumfries, dal primo minuto. Abbiamo detto che questi due giocatori erano giocatori molto simili tra di loro, che l'assenza di Perisic era un'assenza forse un po' troppo sottovalutata durante l'estate, sia dai tifosi dell'Inter, sia anche proprio dagli addetti ai lavori. L'assenza di Perisic si è sentita. Gossens al momento non mi sembra in condizione, credo sia soprattutto un discorso fisico, non un discorso di squadra o di modulo, di atteggiamento del gioco di Inzaghi, no, mi sembra proprio un discorso fisico. Certo, mi viene da pensare che il fatto che non sia ancora entrato in condizione, e che comunque ormai è già più di un mese che la squadra si stia allenando, non vorrei che quell'infortunio dell'anno scorso gli abbia lasciato un po' di strascico. Io spero di no, spero di no, però al momento sicuramente a sinistra manca qualcosa. Ha giocato Di Marco poi, una volta che è uscito Gossens, e Di Marco l'ha fatto bene quel ruolo. Di Marco da esterno, lo abbiamo detto tante volte, sarebbe un difensore molto interessante. Di Marco da braccetto mi ha convinto a metà. Mi è piaciuto molto in fase offensiva, quando Gossens si allargava e Di Marco da terzo andava comunque dentro. Ci sono state due occasioni nel primo tempo dove, nonostante partisse da braccetto di sinistra, è andato al grosso. E quello mi è piaciuto. Però poi il problema è che con squadri che ti attaccano, Di Marco da braccetto potrebbe andare in difficoltà. E quindi anche in ottica modificatore, potrebbe risentirene in alcune occasioni. Soprattutto quando magari dalla sua parte c'è qualcuno di fisico. E sappiamo che comunque, per questioni fisiche, sul gioco aereo Di Marco va sempre un po' a concedere qualcosa. Quindi la situazione, braccetto di sinistra, fascia sinistra dell'Inter, secondo me è da monitorare. Dunfriss, nel bene e nel male, decisivo. Io credo che difensivamente questo giocatore debba ancora imparare qualcosa. Perché ci sono state almeno un paio di occasioni, dove è stato anche richiamato giustamente Dandanovic, dove era proprio messo male col corpo in difesa. Se vi ricordate, c'è stata un'occasione del Lecce, se non sbaglio quella di Banda, dove proprio Dunfriss era messo male col corpo e lo ha fatto tirare in porta e Dandanovic poi ha fatto una parata. Ecco, degli errori dietro li fa, è inutile negarlo. Cioè, difensivamente, Darmian è meglio di Dunfriss. Però poi, ragazzi, dalla metà campo in su, Dunfriss ti dà delle cose che, parlando di difensori, io credo, tolto Teo, non ti dia nessuno in Serie A. E quindi sarà curioso capire l'equilibrio che cercherà di trovare Inzaghi. Perché se Dunfriss lo metti dall'inizio, probabilmente a sinistra non ti puoi permettere Gossens. E viceversa. Quindi sono curioso di vedere, soprattutto quando arriveranno, magari, degli avversari un po' più così difficili, le scelte che farà l'allenatore. L'ultima partita di cui parlare è quella tra Milan e Udinese. Allora, qui, per quanto riguarda i singoli, ripeto, ragazzi, poi ne parliamo nei video che usciranno a breve. Quello su cui mi volevo un attimo soffermare è il discorso della difesa del Milan. Due cose in particolare. Kalulu-Tomori. È solo una partita. È solo calcio di agosto. Ci sono ancora 37 giornate di Serie A. Però, ragazzi, personalmente, io credo che pensare ancora che Kalulu sia una riserva o che comunque rischi di non giocare in questo Milan, mi viene difficile capire chi pensa questa cosa qua. Perché se avete visto la partita, Kalulu ha giocato addirittura meglio di Tomori. Cioè, nel primo tempo, ci sono state almeno due occasioni dove Tomori ha perso l'uomo in velocità. Perché Tomori è un difensore molto bravo. Però, sullo scatto brevissimo, a volte qualcosina concede. E una volta Saccess e una volta, se non sbaglio, Delofeu gli sono andati via. Ma ci sta, eh. Può capitare. Tra l'altro, sull'azione di Delofeu poi è stato molto bravo proprio Kalulu a chiudere. Kalulu a me piace. Poi, ripeto, non voglio resto fermarmi troppo su questo nome perché usciranno anche dei video specifici dove vi dirò, secondo me, quali sono i giocatori trappola, quelli svalutati e quelli rivalutati. Però, vorrei che se faceste l'asta in questi giorni Kalulu non lo andiate a sottovalutare. Ok? Poi, se volete farvi la copietta con Kier fatela, perché comunque il campionato è lungo. Ma, fidatevi, per me Kalulu non è un'eccezione. Ok? Quindi, per me è l'inizio di una bella carriera per quanto riguarda Kalulu. L'altra cosa, invece, di cui parlare un attimo è, in generale, la tenuta difensiva del Milan. Perché, ok, Kalulu, ma due gol intanto sono arrivati. Sentivo una statistica mentre guardavo la partita che il Milan, l'anno scorso, in tutto il campionato, per quanto riguarda i gol di testa, se non sbaglio, ne ha presi quattro e, nella prima giornata, ne ha già presi due. Perché sia quello di Molina sia quello di Becao sono dei colpi di testa. Personalmente, mi sono sembrate due situazioni abbastanza, non dico casuali, ma comunque episodiche. Cioè, non credo che il Milan quest'anno avrà grossi problemi a livello difensivo. Poi, magari, potrebbe subire qualche gol in più, ma non perché la squadra sia più debole difensivamente, ma perché offensivamente ha più soluzioni. Innanzitutto, ricordiamoci che mancava Tonali, che per questa squadra, quando si parla di equilibrio, è un giocatore fondamentale. Cioè, con tutto il rispetto per Krunic, quello che fa Tonali Krunic non lo può fare. E lo stesso Benaserra mi è sembrato un po' sotto ai suoi standard con Krunic vicino. Quindi, secondo me, l'assenza di Tonali è stata sicuramente decisiva. Ma al di là di questo, al di là di questo, che è comunque importante perché il Milan, al di là di quei due gol che ha preso di testa, secondo me, dovrebbe preoccuparsi più dei contropiedi che ha preso dall'Udinese. Poi lo sappiamo, l'Udinese, quando si parla di contropiedi, è sicuramente una delle squadre più temibili del nostro campionato. Fa proprio del contropiede la sua arma migliore. Aspetta e poi riparte con questi giocatori che hanno gamba, che hanno corsa. Però, secondo me, il Milan deve stare attento perché contro altre squadre avrebbe probabilmente rischiato anche di non portarsi tre punti a casa. Ma al di là del discorso contropiede, analizzando solamente due gol, secondo me, sono due situazioni abbastanza così capitate. Errori, soprattutto quello di Masina, clamoroso errore difensivo di Messias, che si dimentica l'uomo, e quello di Becao, Becao col Milan segna sempre, lo sappiamo, è comunque un calcio d'angolo. Lo stesso Maignan mi è sembrato poco responsabile. Per quanto riguarda la fase offensiva del Milan, come vi dicevo prima, secondo me quest'anno, proprio perché ci sono molte più soluzioni e anche più qualità rispetto all'anno scorso, non vorrei che il Milan in certe partite avesse anche un atteggiamento più offensivo. Cioè, l'anno scorso il Milan in certe partite, quando era davanti, non dico che si accontentava e gestiva la partita, però gli andava bene così, ok? Non era una squadra che continuava ad attaccare. Contro l'Udinese, invece, anche forse perché era la prima giornata, c'era l'ambiente comunque dello stadio e tutto il resto, mi è sembrata una squadra che avesse voglia di giocare, avesse più voglia di attaccare rispetto all'anno scorso. Ecco, questo, da un punto di vista offensivo, potrebbe essere una cosa positiva. Si sta parlando di una partita, ragazzi, però si fa per parlare, potrebbe paradossalmente segnare di più, ma ovviamente se attacchi di più, poi potreste anche subire un po' di più dietro. E quindi magari, vediamo, è solo una partita, però potrebbe essere che quest'anno il Milan magari faccia qualche gol in più, proprio per questa sua grande quantità di giocatori offensivi e anche varietà, perché Pioli quest'anno ha davvero mille soluzioni lì davanti, ma allo stesso tempo dietro qualcosina potrebbe comunque subire. Quindi anche questa è una situazione da monitorare, quindi non tanto i due gol che ha preso, che secondo me sono abbastanza appunto degli episodi, ma proprio come atteggiamento. L'atteggiamento del Milan mi è sembrato un atteggiamento un po' diverso dall'anno scorso. Per certi aspetti l'ho visto più simile all'Inter dell'anno scorso che al Milan dell'anno scorso. cioè una squadra portata a segnare, portata ad attaccare. Occhio però perché poi se dietro lasci dei buchi soprattutto in contropiede ti possono colpire. Ragazzi questo era quello che avevo da dirvi per quanto riguarda le quattro partite di sabato fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti io vi saluto vi ringrazio mi raccomando like mi raccomando iscrivetevi al canale che è gratis buon ferragosto a tutti e ci vediamo alla prossima live o al prossimo video ciao a tutti e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.